Ciao a tutti amici, mettetevi comodi perché oggi facciamo un bel video interessante sulle maschere... No, no, scherzavo. Oggi è un video incazzato, un video incazzatissimo su un argomento che abbiamo già trattato ma che adesso ha avuto una nuova puntata di questa telenovela alla Beautiful. E oggi parliamo di nuovo di stadia o stedia, ma oggi vorrei che voi vedeste questo faccino qui. Lo vedete quest'uomo qui? Cioè chi è costui secondo voi? Potrebbe essere Lillo Camillo o Camomillo? Potrebbe essere... guardate che faccia da ciccio pasticcio. Sarà ciccio pasticcio questo qui? Invece no. Lui è Phil Harrison. È stato un ex dipendente dei piani alti, un dirigente di Sony. Era il direttore del reparto di Sony PlayStation durante la presentazione, ad esempio, della meravigliosamente merdolosa PlayStation 3 e di un lancio che fu quasi peggio di quello della PlayStation attuale. Ma comunque di una macchina problematica. Fu mandato via a calci in culo dalla Sony. Vaffanculo Phil. O io lo chiamerò Pillo. Vaffanculo Pillo. Tu non capisci un cazzo. Io oggi ce l'ho con te. Cioè, incredibile. A me sta storia mi fa veramente parlare da solo. Che cosa è successo? Avevamo già, ce l'avamo già lasciati con le news su Stadia, al punto che a inizio febbraio, forse era il 2 febbraio del 2021, Google aveva deciso da un momento all'altro di chiudere gli stabilimenti interni. I due stabilimenti su cui aveva puntato e avevano anche programmato esclusive per i prossimi quattro cazzo di anni. Esclusive da devolvere alla piattaforma Stadia, quindi al cloud gaming e al streaming online. Da un giorno all'altro avevano effettivamente chiuso, rinunciando anche alla figura di Jade Raymond, notissima programmatrice e una delle principali menti pensanti del primo Assassin's Creed, che aveva imbracciato il progetto di Google con tutta se stessa. E che poi, tra l'altro, aveva lasciato con un messaggio abbastanza quasi commovente, parlando delle persone, 150, che adesso Google ha promesso di non licenziare, patapì patapà, non sappiamo come vada, però lei comunque aveva la fortuna di non avere problemi a trovare un'altra occupazione. Certo, il messaggio era un po' strano, e noi questo lo ammettiamo senza problemi. Che cosa nascondeva quel messaggio? Nascondeva Pillo. Pillo? Cinque giorni prima che Google chiudesse? Questo è un gossip al momento, un po' come quello di ieri, un altro gossip tecnologico. La famosa rivista statunitense Kotaku ci dice che il signor dottor Grandoof, figlio di Putt, Phil Harrison, in data 28 gennaio 2021, abbia scritto una mail ai due studi che avrebbe chiuso, lui da manager, cinque giorni dopo circa. In questa mail, secondo voi, Pillo, che cazzo ha detto? Ha preparato questi lavoratori al loro tragico destino? Sembrerebbe, sembrerebbe di no. C'è da farsi le croci proprio a mano storta, ma addirittura, secondo Kotaku, cinque giorni prima della chiusura degli studi di Google Stadia, Pillo avrebbe fatto le sue congratulazioni via mail ai dipendenti. Dove diceva che questi due studi hanno fatto grandi progressi, costruendo un team diversificato e talentuoso, creando una forte line-up di giochi esclusivi per Stadia. La data precisa è il 27 gennaio, non il 28 che ho detto prima, quindi cinque giorni prima della chiusura, il 2 febbraio. confermeremo a breve il piano di investimenti per la strategia e attraverso la pubblicazione informeremo la divisione di Stadia Gaming riguardo al 2021 e gli obiettivi e i risultati chiave da raggiungere. Questo, se lo rileggiamo adesso, fa veramente strano. Avete capito quali erano gli obiettivi? Chiudere tutto e mandare 150 persone a fanculo. A fanculo. Incredibile questa cosa. Incredibile questa cosa da Google. È stata una cosa che, cioè, dobbiamo ringraziare questo manager qui, questa faccia da culo qui, lo vedete? Ecco, è abbastanza chiaro, guardatelo. Eh, eh, grazie, fillo, o pillo, che dir si voglia. Cioè, adesso abbiamo 150 persone. Io vado in bestia perché penso, per vari motivi, mi posso immedesimare in questi poveri Cristi. E se io ricevessi i complimenti dal mio capo, le proposte di piani quinquennali, di promozioni, di aumenti di stipendio. E dopo cinque giorni mi chiudessero tutto e mi mandassero a casa. Io non lo so. Io direi solo una cosa, appillo. E la cosa che io direi è V'affanculo! V'affanculo! Incredibile, ragazzi. Scusate lo sfogo, ma vergogna. Vergogna Google, vergogna Phil Harrison. Basta così.